Mamma, tutti i miei amici di scuola oggi hanno fatto l'alfabeto, sapevano fino alla C, io invece fino alla E. A, B, C, D, E. Ma è perché so speciale? Sì, figlia mia. E il giorno dopo? Mamma, oggi abbiamo fatto i numeri, tutti i miei compagni contavano fino a 3, io invece fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ma è perché so speciale? Sì, figlia mia. E il giorno dopo ancora? Mamma, oggi abbiamo fatto esercizi fisici e tutte le mie amiche avevano le tettine piccole piccole, io invece gli apre la camicia, due tettone, escono fuori e fa, io invece sono così, ma è perché sono speciale? No, amore mio, è perché hai 25 anni, finiscila sta prima, cazzo, vai.